È tornato a riunirsi il Consiglio regionale, fra gli argomenti oggi avviato l'iter per l'approvazione del piano trasporti 2022-2031. Acceso il dibattito fra maggioranza ed opposizione su metropolitana leggera, taglio delle linee su ferro convertite su gomma e sulle tempistiche relative al completamento della tratta termoli Campobasso. Il Molise è l'unica regione d'Europa che disinveste sul ferro per investire sulla gomma. Il PNRR, RFI, ha deciso di investire proprio a valere sul PNRR come soggetto attuatore, proprio sulla linea termoli Campobasso. Quindi bisogna capire perché qui la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Su quel documento c'è scritto, nero su bianco, che la metropolitana leggera fino al 2031-2032 non entrerà mai in funzione. Quindi in buona sostanza si sono spesi 25 milioni di euro di quattrini pubblici, di cui ne beneficeremo solo di una parte, perché si beneficerà solo della parte relativa all'elettrificazione della linea. Il sottosegretario Niro difende lo sviluppo della rete ferroviaria che dopo 40 anni è stato oggetto di lavori di ammodernamento ed elettrificazione e non esclude l'avvio in futuro della metropolitana leggera nella sua interezza. Gli elementi più salienti sono quelli che riportano una situazione di sviluppo già iniziata a metà, alla fine del 2018, all'inizio del 2019, che man mano ha cercato di tenere in considerazione tutte le varie opportunità. Voglio solo ricordare per coloro che molto spesso dimenticano che la nostra rete ferroviaria per la prima volta, dopo 40 anni è stata oggetto di interventi di ammodernamento e di elettrificazione. Nel momento in cui sia la tratta, campo basso termine, e sia la metropolitana leggera entrerà in funzione per le anomalie che lo stesso tracciato presenta. L'RFI credo che stia lavorando per fare le progettazioni definitive, visto che nell'ambito dei 210 milioni è previsto anche il finanziamento per risolvere questo problema.